Calogero Fanare, abitante di Favara Ovest, ieri l'intervento di un sufficino di casa, Salvatore Chiarenza, oggi la replica. Io credo che Salvatore abbia agito sicuramente in buona fede e devo dire pure che ha parzialmente ragione su questa vicenda perché è vero che ancora non bisogna essere sicuri che le cose andranno per la maniera peggiore ma evidentemente io dico che un cancro si dice che viene stippato dalla radice, diversamente poi diventa una cosa solida per cui questo momento dove noi vediamo che comunque la Commissione ha approvato questo atto evidentemente portato in Consiglio Comunale non potrà fare altro che danneggiarci perché l'atto viene portato in automatico in Consiglio Comunale essendo approvate evidentemente le cose andranno sicuramente nel peggior modo possibile quindi tutto va a definirsi in maniera negativa quindi è un consiglio che direi io non allarmismo, dobbiamo essere più che allarmati perché è una situazione di cui se in questo momento noi riusciamo anche con i politici stessi perché siamo favoresi e vogliamo rimanere favoresi io dico che alla fine questo problema si può risolvere io vorrei invitare questa Commissione per certi versi a venire a Favara e venire a vedere in realtà in quale situazione ci troviamo io voglio ricordare semplicemente che alla zona in particolar modo dove abito io ancora abbiamo le strade sterrate parliamo del 2016 con strade sterrate e loro parlano di 170.000 euro che il Comune di Agrigento andrebbe a perdere per le cose per l'urbanistica che noi paghiamo annualmente e che loro non hanno mai fatto ma di che cosa stiamo parlando? ma stiamo scherzando io dico che se incontro a questi 170.000 euro di cui parlano loro io credo che ci dovrebbe essere seriamente, non lo dico tanto per dire un investimento di almeno 12-13 milioni di euro io sarei pure contento di essere agrigentino magari diventerei pure cittadino ma non voglio essere perché la mia cultura è favarese io sono nato a Favara voglio vivere a Favara io ho invitato come ripeto già recentemente l'onorevole Moscati di quale io sono lieto di essere amico col quale già lui stesso ha preso dei provvedimenti seri su questa cosa dicendo apertamente che è disposto anche ad andare ad occupare insieme a noi la sala consigliata agrigenta perché è una cosa assolutamente insostenibile